ciao a tutti ciao a tutte buon pomeriggio ore 17 24 dopo sette ore in studio per registrare la puntata la prima puntata di observer news che andrà in onda questa sera su canale 68 è ufficiale ci arresteranno ovviamente spero di no è una battuta è puntata molto molto interessante e vorrei darvi alcune indiscrezioni su quello che tratteremo questa sera nella prima puntata di observer ricordo dato l'appuntamento ore 20 e 30 sul canale 68 in tutta italia e poi sarà anche in replica ma non appena confermato la replica anche a mezzanotte e 15 sempre sul canale 68 oppure su sky canale 229 tornando però all'argomento della puntata di oggi intanto saluto giorgio ciao maria ciao rosanna ciao giannina attendiamo che questa benedetta notte notifica arrivi a voi benedetti presente corrado ciao corrado siete curiosi di sapere siete curiosi di sapere so che alcuni non gliene fregherà nulla ma di sapere quali tema abbiamo trattato in puntata intanto vi do la conferma gli ospiti io luca bello a condurre ci sarà sandro torella con un suo discorso molto interessante video su cosa poi ci sarà un altro discorso molto molto interessante da enzo incontro il grande cristiano giornalista cristiano di catania insomma una puntata scoppiettante con diversi temi parlando delle del malore che c'è stato in campo nella partita romo dinese e purtroppo del malore improvviso che ha colpito un giovane che stronca che ha stroncato un giovane calciatore oggi abbiamo trattato questo tema che è un tema sicuramente sensibile importante abbiamo parlato con sandro torella ha fatto un discorso molto interessante su speranza un discorso non riesco neanche a dire speranza su speranza che è assolutamente da ascoltare perché sandro a suo modo torella ha trattato il tema speranza in modo molto particolare lo sentirete enzo incontro invece ha trattato in collegamento da catania ha trattato un tema abbastanza scottante ovvero questa questa guerra tra e neppe nelle mondo israele arabo e quant'altro quindi con appunto questo attacco che c'è stato del dell'iran una cosa molto un discorso molto profondo che sentirete per un'osservazione dal punto di vista cristiano non religioso è cristiano poi chi c'è ancora temi trattati luca si è sbizzarrito parlando della sicilia abbiamo parlato della lega attenzione della lega di questo ritorno di umberto bossi che ha detto cose scomodissime nell'orecchio una persona su matteo salvini e abbiamo che ci sarà anche una mini inchiesta un mini sondaggio dove abbiamo chiesto ai siciliani cosa ne pensano del ponte sullo stretto altri temi trattati cioè è stata una puntata incredibile veramente incredibile altri temi trattati interessanti che potrebbero interessarvi intanto saluto allegra ciao claudio ciao jack ciao anna chi c'è ancora sergio e abbiamo parlato anche delle di questa cosa strana all'interno delle moschee le donne in recinto nei recinti un tema che sicuramente farà discutere anche questo insomma tutti temi molto molto interessanti quindi preparatevi puntatona per la prima puntata di observer news cose che ovviamente tutti non hanno in anzi in troppi in troppi non hanno il coraggio di trattare temi che non hanno coraggio di trattare quindi l'appuntamento ore 20 e 30 canale 68 grazie rosario la fine vicina è la fine vicina speriamo di no speriamo l'inizio diciamo l'inizio ciao giorgio ciao fabio la notifica arrivata mi dice si ma pochissimi collegati in questi giorni l'algoritmo va malissimo abbiamo parlato anche della censura sui social e della proposta di fratelli d'italia clamorosa di arrestare i giornalisti insomma abbiamo parlato di diverse cose molto molto interessanti qualche riferimento alla boldrini alla shlein insomma una puntata sicuramente da guardare detto questo vi saluto vi auguro un buon pomeriggio a tutti vi chiederei di condividere l'invito e jacky miles sei un grande robbie no tu sei un grande ci sono altri temi molto interessanti notizie appena arrivate di oggi ma ne parleremo nella puntata di domani perché vi ricordo che observer news andrà in onda tutti i giorni dal lunedì a venerdì alle ore 20 30 e alle ore e questo è il nuovo orario e mezzanotte e 15 quindi avrete doppia possibilità per vederlo e in più andrà anche in onda su youtube il canale della tv e sulle sulla mia pagina di facebook quindi robbie giusti ciao a tutti buona giornata ci vediamo questa sera noi ci risentiremo sicuramente prima questo comunque un piccolo lancio di invito per collegarvi questa sera ciao a tutti grazie